Eccellenza, come ha trovato Castelvetrano in questa sua vista pastorale? Erano preparati i bambini che l'hanno incontrata? I bambini e anche gli adulti. I bambini sono particolarmente vivaci perché non conoscono i condizionamenti delle maniere un po' raffinate e un po' misurate degli adulti. Ma anche gli adulti hanno avuto la possibilità di conoscermi in momenti di maggiore spontaneità per cui ci siamo trovati tutti bene e in tanti hanno manifestato la loro soddisfazione di poter avere un contatto con me fuori dalle ufficialità soprattutto liturgiche che sono quelle che magari ci impongono comportamenti e atteggiamenti un po' più fermi, un po' più solenni, un po' più distaccati. È stata una bella esperienza con delle sorprese molto positive da parte mia nel vedere anche la vitalità delle comunità parrocchiali e il loro impegno soprattutto nel servizio degli ultimi e dei poveri. Eccellenza, a proposito di quello che ha detto prima, ricollegandomi al suo discorso, posso dire che mio figlio ha ricevuto la sua visita a scuola e è venuto a dirmi mamma, guarda, il Vescovo ride, non è serio come lo vediamo sempre. E questo penso sia importante perché c'è le istituzioni religiose, devono essere sempre più vicini alle comunità, alle persone, quindi in maniera più calorosa, quindi togliendo a volte quella veste un po' fredda, austera che è tipica di queste figure come la sua. Esattamente quello che voglio ottenere anche con questa visita, mostrare il mio volto completo di persona che cerca il dialogo e cerca l'incontro nelle forme più spontanee e naturali che sono proprio della nostra umanità. Certamente la liturgia come momento di culto a Dio ci impone dei comportamenti che siano all'altezza proprio della lode e della gloria che diamo. Quando poi ci incontriamo nella informalità o nel rapporto umanamente più spontaneo e cordiale, allora lì possiamo concederci tutto quello che il nostro temperamento ci offre. Vedo che i bambini, i ragazzi tutto questo lo percepiscono e lo colgono e i sorrisi a 32 denti con cui rispondono alle mie risate ne sono la risposta più efficace. Cosa pensa dei problemi delle famiglie di oggi? Cosa puoi dire? Le famiglie oggi stanno attraversando un momento di particolare difficoltà che qualcuno pensa sia una difficoltà prevalentemente economica. In effetti è una crisi più che economica, è una crisi sociale, è una crisi culturale, forse anche una crisi di affetti. e di relazione, perché siamo tentati anche all'interno delle nostre famiglie di pensare ciascuno a se stesso e di non occuparsi o preoccuparsi troppo degli altri. Credo che la famiglia abbia ancora una missione da attuare in questo nostro tempo, soprattutto ricoprendo il calore di relazioni vere e autentiche tra coniugi, tra genitori e figli, tra figli tra loro, aprendo anche le nostre famiglie, le nostre case, almeno idealmente, a tutto quello che può essere ciò che si sente e le sofferenze, gli silenzi, le difficoltà che oggi tutti sperimentano. Sapere di poter contare sull'altro che ti capisce ed eventualmente può ascoltarti o può darti un consiglio, una parola di consolazione, sarebbe una cosa grande anche per questo nostro tempo. Grazie a tutti.